Ciao a tutte ragazze, come state? Spero tutto ok. So che manco un po' dal canale, ma un po' per mancanza di tempo e un po' perché mi è difficile trovare una stanza silenziosa in questa casa. Non giro video da... li giro sempre più sporadicamente. Comunque oggi torno con un, si può dire, un mega haul, mega insomma, con delle spese, con un haul di cosmetici acquistati sul sito makeup.it. In realtà ho fatto due ordini. Vi mostro il primo. Il primo ordine è partito, diciamo, è stato... l'ho effettuato in quanto volevo... In quanto volevo acquistare dei bagno doccia, che perlomeno nella mia zona... Perlomeno nella mia zona non ci sono grandi catene come Acqua e Sapone, Mauriz, Risparmio Casa, dove c'è un assortimento, diciamo, maggiore. E quindi volevo prendere... volevo acquistare dei bagno doccia che per me è difficile, è impossibile reperire nei negozi fisici che ho qui nella mia zona. Quindi ho preso... e costavano un pochino questi bagno doccia su makeup, ma non so se li riequisterò ancora a questi prezzi, perché è vero che makeup ha un grande assortimento di vari marchi, ma i prezzi forse a volte sono un po' ingiustificati, non so se sia perché sono prodotti che provengono... cioè, provengono... perché backup è un sito ubicato in Polonia e perché si debba spedirli, quindi il costo delle spedizioni. Comunque ho preso, che credo sia nuovo come profumazione, perlomeno nuovo qui in Italia. Io di questo che vi sto per mostrare ho visto la versione piccola, da 250 ml, pochi giorni fa, in un supermercato, nel supermercato della mia città, in uno dei due o tre. Ed è questo della DAV, della DAV alla peonia e all'olio di rosa. E qui c'è scritto Renewing, quindi rinnovatore, rigenerante. Allora, qui dice che senza le S e solfati, che ha un siero che garantisce tripla idratazione, la bottiglia è al 100% riciclata e la formula è biodegradabile per il 92%. Qui dice appunto che la loro formula idratante con il siero tripla idratazione, piona e rosa di olio, rinnova e revitalizza la pelle, lasciandola luminosa in solo una doccia, dopo solo una doccia. La nostra formula idratante contiene detergenti di origine naturale, idratanti appunto estratti dalle piante e senza appunto slas, gentile sul microbioma della pelle, non è testato sugli animali. E DAV sostiene il progetto costruire l'autostima delle ragazze. Qui dice che aiutano un quarto di un miliardo di giovani, costruiscono l'autostima, costruiranno l'autostima da 2004 al 2030. Qui appunto dice che la bottiglia è riciclabile al 100% e la formula biodegradabile al 92%. E questi sono 500 ml e l'ho pagato 8,89€, però il profumo era buonissimo. Era disponibile anche nel formatato da 250 ml quando ho fatto l'ordine e adesso, dopo due settimane, sono passate due settimane da che ho fatto l'ordine, è disponibile anche in quello da 750. Ha un profumo di rosa ma molto delicato. Il prodotto è un color rosino perlato, appunto come il colore del tappo. Poi ho preso due bagno a doccia della Nivea. Uno l'avevo già provato anni fa, ma si parla del 2012, quindi 11 anni fa. Tra l'altro in un centro commerciale a 30 km da casa mia all'interno di un supermercato all'interno di un centro commerciale che mi sembra fosse l'Interspar, ma non l'Interspar che c'è da me, che è abbastanza formitto, ma neanche troppo. Ma in uno a 30 km. E sto parlando di questo bibitone della Nivea, perché se non si fosse capito, io amo il brand Nivea. Generalmente mi ci trovo bene, non sarei com'io, ma io ci trovo bene, con creme per il corpo, bagno a doccia, anche i deodoranti, shampoo, eccetera. Io mi ci trovo bene. Questo, bagno a doccia, ha il profumo di arancia e latte di bambù. Sono 750 ml. Qui dice un momento per prendermi cura di me, di me stessa in modo naturale. Per pelle, per pelle liscia da toccare. Vediamo cosa dice. Tra gli ingredienti c'è anche l'olio di mandorle dolci. Oltre all'estratto di bambù. Ok. Per il resto... Non ha buoni ingredienti. Vi leggo qualcosa da dietro. Lascia che questo bagno a doccia con nutriente e latte di bambù avvolga la tua pelle con una schiuma leggera e setosa, mentre la sua delicata fragranza fruttata di fiori d'arancia accarezza i tuoi sensi. Trasforma la tua doccia o il tuo bagno quotidiano in un momento in cui prenderti davvero cura di te. In equilibrio con il pH della pelle, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata, 98% formula biodegradabile, formula vegana e senza microplastiche, quindi direi bene. Ora non mi ricordo di preciso il profumo. Avete presente quelle caramelline... quelle caramelle dure all'arancia? Ecco, ha quel profumo lì, di quelle caramelle che io mangiavo quando ero piccola. Quelle fatte a spicchio di arancia, fatte a spicchio. Che io mangiavo da piccola, ma credo che esistano ancora adesso. Che esistano ancora. E questo... sono 750 ml e l'ho pagato 5,35 euro. E poi ho preso quest'altro, sempre di Nivea. Questo qui. Shower and baths 2 in 1. Welcome sunshine. Per una pelle naturalmente morbida e coccolata. Al profumo di cocco e con olio di mandorle. Sempre 750 ml. Vediamo se qui c'è l'italiano dietro. No, non c'è l'italiano. Non so perché. Vediamo se c'è una lingua. Romeno, bulgaro, ok. Anche qui, come altro ingrediente... in più, c'è l'olio di mandorle... c'è l'olio di mandorle dolci. Ha dimenticato. Entrambi hanno un po' di... 12 mesi. Questo sa proprio di... Non è un cocco chimico, secondo me non troppo. È piuttosto naturale. Sa di cocco proprio... di... di gelato al cocco. Quello proprio di gelateria artigianale. Quel cocco naturale. Oppure quel cocco... Il cocco fresco. Acquoso che vi vendono sulla spiaggia. E questo l'ho pagato 5 euro e... No. Questo l'ho pagato 7 euro e 97. Poi... L'ordine era partito per questi bagno doccia. Ma già che c'ero... Cercavo una lozione corpo idratante. Dalla consistenza leggera. Non una crema pesante appunto per il periodo estivo. E quindi... Ho cercato delle lozioni corpo. E la mia scelta è ricaduta su... Questa... Come lo chiama qui? Ovviamente l'italiano. Faccio prima mostrarvelo. Contro questa lozione per il corpo della Evelyn Cosmetics. Biologica. Alla fragola. Alla fragola con il 99% di fragole naturali. Qui dice con Energy Boost Complex. Cruelty Free. Quindi non testato sugli animali e vegana. E qui lo definisce... Eccolo qui. Moisturizing and Smoothing Body Yogurt. Dry and Irritated Skin. Quindi c'è appunto... E' una... Un body yogurt... Idratante e... Levigante, tonificante... Con il 99% di... Con l'estratto naturale di fragole al 99%. Con una formula estremamente delicata e cremosa. Lenisce intensamente la pelle secca ed irritata, lasciandola morbida, compatta e avvolta nel dolce braccio, nel dolce profumo delle fragole. Ripe, stragole, ripe, stragole, ripe, non so cosa significa, comunque ci siamo capito. L'Energy Boost Complex, questo complesso Energy Boost, fornisce una... Un'abbondante dose di preziosi nutrienti. L'estratto di fragola, ricco in vitamina C e antiossidanti. Migliora efficacemente il tono della pelle sull'epitermide e la protegge contro l'azione dannosa dei radicali liberi. C'è un mix di 5 preziosi biooli. Giojoba, argan, macadamia, arancia e germe di grano. Questa mix di 5 preziosi biooli idrata intensamente la pelle, mentre l'acido ialuronico la rassoda in maniera magnifica, rendendola... Levigata, rendendola liscia, resistente e piena di luce vitale. Ok. Infatti, leggendo il... L'Inci non è così male, in quanto c'è... Appunto il muro di Karité, l'olio di argan, L'olio di jojoba, l'olio di germe di grano, l'olio di macadamia, Citrusaurantium dulcis flower oil, L'olio... L'olio di arancio dolce, credo che sia di arancio. Olus oil, non so cosa sia, non so se sia olio di oliva, Estratto di fragola, appunto, sodio ialuronato, quindi acido ialuronico, Allantoina, Vitaina, Toccoferilacetate, Toccoferolo, quindi vitamina E, E, appunto, è distribuito da Evelyn Cosmetics, Sono 400 millilitri, quindi è anche ben leggibile, Con un paio di 12 mesi, costato 7,80 euro. E poi ho fatto il sito, il... Scusate, ho fatto l'ordine su Makeup, Perché io, sapete bene che, come diodoranti, La mia marca in assoluto, Quella proprio top preferita, più efficace, almeno su di me, È quella dei Borotalco, un po' tutte le varianti. Ho comprato, ho già acquistato qualche flacone di quello, Del Borotalco Intensive, con il tappo rosso e la bomboletta grigia, Che promette 72 ore di protezione, In caso di caldo eccessivo, di sudore, di sforzi fisici, eccetera, Ma, ho trovato, sul sito Makeup.it, I deodoranti della Garnier Mineral, Che una volta, vi parlo di 10, 12, 15 anni fa, Io vedevo anche facilmente reperibili in Italia, Da Tigotà, e li vedevo da Tigotà, Forse da Caddis un po' meno, ma li trovavo. Allora, Ho preso tre tipologie, Ne ho presi più pezzi per ogni tipologia, Ma me ne mostro una per ogni tipologia, Una sola a titolo di esempio. Ho preso questo, L'Invisible Protection, 48 ore, Per capi neri, bianchi e colorati, Antimacchie, asciugatura rapida, Con mineralite, Che assorbe 5 volte di più il sudore, Antitraspirante, senza alcol etilico, E questa è la fragranza, Si legge qui, Floral Touch. Vediamo se dice qualcosa in una lingua comprensibile. Vediamo l'Inchi, No, non ha nessun ingrediente particolare, L'Inchi apporta i soliti alluminio cloridrato, Toccoferolo, Ecco, vitamina E, Forse questo, Di questi io ne ho presi Quattro, Di questa variante, Sì ne ho presi quattro, Quattro di questo, E questo è costato, Floral Touch, Con un pao di, Ma non c'è scritto qui, Non c'è scritto di quanto è il pao, Questo, L'ho pagato 5 euro e 14, Ne ho presi, Quattro mi sembra, Poi, Siccome prevedo un'estate veramente bestiale, Tipo con punte fine 40 gradi, Ho visto questo, E ho pensato questo fa il caso mio, Quest'altra variante, Action Control, Fino a, Control Plus 96 ore, Clinicamente testato, Anti irritazione, Delicato sulla pelle, Con mineralite appunto, Che assorbe, Assorbe, Il sodore cinque volte di più, Ovviamente 96 ore, Corrispondono a quattro giorni, Chiaro che in quattro giorni, Ci si lava, Tutti i giorni, E anche più volte al giorno, Però insomma, Mi era, Giustamente uno vede 96 ore, Farà un caldo bestia, E quest'anno è, E tentarlo a muoce, Insomma, Vediamo se ha qualche ingrediente particolare, Sì, Mi pare che abbia l'estratto dita verde, Camellia sinensis, Poi il resto a perlite, Ectorite appunto, E questo l'ho pagato, Non l'ho pagato, Non l'ho pagato, 4 euro e 53, E anche di questo ne ho preso 4, 4, E poi c'è l'ultima tipologia, Che era in un mega formato, Da 250 ml, Cioè, Guardate che roba, Questo qui, Invisible protection, Neri, Bianchi e colorati, Antimacchie, Asciugatura rapida, Con mineralite, Sembra appunto, Che assorbe 5 volte, Di più, E questa era la variante, Fresh aloe, Aloe, Come dir si voglia, Questi sono, 250 ml, E di questo qui, 250 ml, Erano, Disponibili solamente due pezzi, Che, Ho comprato ovviamente io, Se ce ne fossero stati altri, Ne avrei comprati altri, Anche di questo, Ma ce ne erano solo due, E, Ok, E questo l'ho pagato invece, Fresh aloe, 4 euro, E, 4 euro, 06, Ok, E questo era il primo ordine, Poi, Invece il secondo ordine, Dopo alcuni giorni, Insomma, Mi sono rimessa, A cercare, Altre cose, Sul motore, Sul motore di ricerca, Di, Di make-up.it, In quanto volevo provare a vedere, Se era uscita, Se fosse per caso uscita, Qualche, Come dire, Qualche novità, Relativa, Ai tesori d'Oriente, Alla marca tesori d'Oriente, In quanto io stavo cercando, Il profumino, Della linea Bizantium, Che non riuscivo a trovare, A reperire, Nei negozi fisici, Che ho qui vicino a me, Tra parentesi, A maggio, Ci sono stati, Per tutto il mese di maggio, Non so se qualcuno di voi, L'ha notato, I bagno crema, Quindi quelli da mezzo litro, Della tesori d'Oriente, In offerta, Due euro, 99 anziché, 4 euro, 4 euro passa, Quindi io ho preso, Quelli che conosco già, Da utilizzare, Però più nel periodo tonnale, Ho preso, Che mi piacciono molto, Ayurveda, Perché appunto ha questo profumo, Un po' fresco, Eccetera, Particolare, Bizantium, Da utilizzare, Nei mesi più invernali, Secondo me, Ma con questo profumo talcato, È uno spettacolo, Fiore del dragone, Che ho utilizzato, Anni e anni, Tantissimi anni fa, E a mamma, E in scorta, Dì tesori d'Oriente, Preso non in questa tornata, In quest'idea d'antigotà, Ma l'anno scorso, Nessuno mi ricordo che sito, Il bagno crema, Forestry, Il fritto, Che forse, Che forse, Utilizzerò nel corso di questa estate, Vedremo, Vi stavo dicendo, Cercavo qualche novità, Eccetera, E mi sono imbattuta, In una linea, Di cui hanno già parlato, Due o tre youtuber, Cioè, Donatella di Cicco, Magari vi, Vi lascio qui giù, Il link al suo canale, Che l'ha definito un profumo, Che ha parlato solo del profumino, Di questa linea, L'ha definito un profumo spirituale, E forse, Mauro e i profumi, Anche lì, Magari vi, Cerco di lasciare il link, E di cosa sto parlando, Della linea, Karma, Questo è il bagno crema aromatico, Con fiore di nasci, E legno di cedro, Questi sono, 500 ml, Ovviamente, E vi leggo, Quello che, La descrizione, Ispirato alle antiche tradizioni hindù, Il rituale karma, Celebra il potere della gentilezza, Per trasmettere positività, E buon umore, Grazie all'accordo energizzante, Di limone e bergamotto, Alle gioiose note floreali, Del fiore di nasci, E quelle, E a quelle rassicuranti, Del legno di cedro, Questo bagno crema aromatico, Deterge dolcemente, La pelle, E coccola i sensi, Il suo profumo, E' stato arricchito, Con una miscela di oli aromatici, In grado di infondere, Un piacevole senso, Di felicità, E benessere, Io ovviamente, Temendo di non trovare, Questo prodotto, Nel mio tigotà, Perché il mio tigotà, E' molto piccolo, E non ha spesso, Tutte le ultime novità, Parlo in generale, Non solo dei tesori di niente, Ma di tutti i brand, Che in realtà vedo facilmente, Dalle altre, Dalle altre youtuber, Ecco, Quindi ne ho presi due, Due, Pagato 6 euro e 15, Quindi, L'avrei pagato 4 euro qualcosa, D'attività, Ma, L'ho pagato 2 euro in più, Diciamo, E poi, C'è lui, Appunto il profumino, Da, 100 ml, Il profumino, Costato, 4 euro, E 99, No, Scusate, Ho sbagliato, Karma deve essere costato, Non ricordo il prezzo, 4 euro a 99, E il prezzo di qualcosa, Che vi farò vedere tra poco, Comunque, Guardate anche i, I colori di questo packaging, Che trasmettono appunto, Buon umore, Ricordano proprio i, I colori dell'estate, Secondo me, E qui dice appunto, Ispirato alle antiche tradizioni, Il rituale Karma celebra il potere della gentilezza, Per diffondere posità e buon umore, Le note energizzanti di bergamotto e limone, Incontrano la delicatezza di petta di dinasci, E la sensualità del legno di cedro, Questo profumo aromatico, E arricchito con una miscela di oli aromatici, In grado di infondere, Un piacevole senso di felicità e benessere, E anche di questi ne ho presi due, Poi una cosa che io, Mi è saltata all'occhio, Hanno creato il, Deodorante spray, Quindi deodorante per le ascelle, Della linea Ayurveda, Il deodorante spray aromatico, All'hamla e paciuli, Qui dice protezione 24 ore, Può darsi, Forse 24 ore nella stagione, Diciamo, Non adesso che sta arrivando il caldo, Nella stagione autonale, Invernale, E un po' in quella primaverile, Qui dice, Ovviamente l'ho preso, Perché conoscevo già la profumazione, Ayurveda, E perché ho appena comprato di recente, Come vi ho detto, Il bagno crema, E i profumini aromatici, Un accordo legnoso e ambrato, Illuminato da accenti di arancio dolce, E limone, E impreziosito da una infusione, Di paciuli e legno di cedro, Per donare un'intensa sensazione, Di benessere e armonia, E il deodorante spray aromatico, Deodore rinfresca, Con delicatezza, Senza aggredire la pelle, E assicurando una protezione, Che dura 24 ore, Non lascia residui, Sui vestiti, Sulla pelle, Dermatologicamente testato, Questo anche, La calendula, Anche l'acqua di aloe, E l'olio di girasole, Philanthus emblica fruit extract, Che non so se sia il paciuli, O il legno di cedro, Ok, E sono 150 millilitri, E questo l'ho pagato 4,99 euro, Cambiando brand, Ho comprato due champi, Della nivea, Perché io d'estate, Quando sudo molto in testa, Tendo a utilizzare, Se non è una giornata, Che ho sudato molto, Che sono tornata a casa, Se sono, Mediamente sporchi, Uso uno shampoo normalissimo, Anche in crema, Insomma, Ma se torno a casa, E sono uscita, E c'erano 40 gradi, Io ho bisogno di lavare bene la testa, Io, Scusatemi, Io utilizzo, Mi trovo bene con gli champi, Micellari di nivea, Che però non trovo più da Tigo tali, Riaperisco solo su Makeup.it, Quindi ho preso, Due nuove varianti, Io finora utilizzavo, Quello, Col tappino, Diciamo, Color, Acqua marina, Con estratto di melissa, Per capelli, Facili ad ingrassarsi, Tendenti ad ingrassarsi, Questa volta ho preso, Questo shampoo micellare, Comfort in shampoo, Per appunto, Per cuoio capelluto, Sensibile, E capelli fragili, Con giglio, Anche qui appunto, La bottiglia, Riciclata al 97%, Questi sono, Non si vede bene, Si vede meglio qui, 400 millilitri, E, Questo l'ho pagato, 5 euro e 7 centesimi, E appunto, Ha l'estratto di linfea, L'estratto in polvere, La radice polverizzata, Della foglia di aloe, Poi ha anche l'olio di macadamia, Il pantelolo, Il pantenolo, Quindi non è proprio malissimo, Come inci, E poi ho preso l'altro, Diciamo che questo, Si potrebbe utilizzare, In tutte le stagioni, Perché, È per, Cuoio capelluto, Sensibile, E, Capelli fragili, Io ho un po' i capelli fragili, Ma, Non lo vedo come un prodotto, Prattamente adatto, Alla stagione estiva, Mentre questo invece, È, Detox, Detox, Con, 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 Tè verde, Bio, E lime, Qui dice, Una, Una pulizia efficace, E delicata, E una, È un potere energizzante, Senza siliconi, Mi pare che, Anche l'altro, Sia senza siliconi, E, Questo appunto, L'estrato di tè verde, E di lime, E, E, Questo è costato, 5,77 euro, Bene ragazze, Scusatemi, Ragazze, Ragazze, Scusatemi, Se mi sono dilungata, Ma, Soprattutto, Per i prodotti, Del secondo haul, Quindi, Quelli dei tesori d'oriente, Eccetera, Ho voluto, Leggervi bene, Le spiegazioni, Gli inci, Eccetera, Come al solito, Qui sotto, Cerco di, Cerco di mettervi, Di lasciarvi più informazioni possibile, E vi lascio il link, Per quanto riguarda, La linea, Karma dei tesori d'oriente, Al canale, E al video, Di donatella di cicco, E di, Mauro, E i profumi, Che hanno fatto, Dei video più accurati di me, Perché sono intenditori di profumi, E quindi, Sono un po' più competenti, Diciamo, Rispetto a me, Spero che il video vi sia piaciuto, Se vi è piaciuto, Lasciate un like, Se avete già provato, Quei bagno doccia, Che vi ho fatto vedere, Della, Nivea e della DAV, Oppure anche, Questi deodoranti, Della, Garnier Mila, Lasciatemi, Un commento, A me piace, Questi video sono fatti apposta, Per poter poi, Interagire anche con, Tutti noi, Perché, Al mio livello, Secondo la mia opinione, Io non sono una maestra, Di, Di bellezza, O di, O una chimica, Siamo tutti, Secondo me, Sullo stesso livello, Quindi, Ci si scambia, Idee, In maniera, Tranquilla, Come se si stesse, Bevendo un caffè, Davanti a un amico, Ecco, Quindi, Aspetto i vostri commenti, Se vi va, Potete iscrivervi al canale, Senza impegno, Così facciamo crescere, Questo piccolo canale, E, Spero appunto, Di tornare più frequentemente, Con altre tipologie di video, Hall, Soprattutto, Vedo se riesco a registrarvene uno, Già oggi, Oppure, Nei prossimi giorni, Vi mando un abbraccio, Vi mando un grosso bacio, E, 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 Spero di tornare presto, E, Appunto, Spero di leggervi, Nei commenti, Ciao, A presto,